Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video. Il Presidente del Consiglio si è dimesso ieri al Quirinale per l'impossibilità di andare avanti, sperando in un reincarico. È una crisi al buio, la soluzione non è certa. Adesso si aprono le consultazioni. Che cosa sono le consultazioni? I capi, le delegazioni dei partiti e il Presidente di Camera e Senato si recheranno dal Presidente della Repubblica con un calendario e avranno un colloquio dove Mattarella prenderà atto della loro posizione politica. Se vogliono il voto, se vogliono un reincarico di Conte, se vogliono trovare un altro Presidente del Consiglio, prenderà nota e poi avrà al finale un quadro della situazione. L'ordine di apparizione delle forze politiche al cospetto del Capo dello Stato che andrà da mercoledì a venerdì. Quindi tre giorni di consultazioni. Quindi Mattarella, dopo aver ricevuto le dimissioni del Premier, si è riservato di decidere e ha inviato e hanno invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di mercoledì. Il calendario completo è questo. Mercoledì 27 gennaio alle 17 il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati incontrerà, come da prassi, il Presidente della Repubblica. Mentre alle 18 Mattarella incontrerà il Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Dottor Roberto Fico. È proprio scritto così, Onorevole Dottor Roberto Fico. Chissà perché in questo caso hanno specificato Onorevole Dottore Roberto Fico. Insomma, mentre giovedì 28 gennaio, il giorno dopo, la mattina alle 10 Mattarella incontrerà il gruppo parlamentare per le autonomie SVP, PAT e UV del Senato della Repubblica. Alle 10 e 30, quindi qui c'è un colloquio di mezz'ora, dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 16 e 45 incontrerà rappresentanti dei gruppi misti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Mentre il giovedì, sempre il 28 gennaio, il pomeriggio, alle 16 e 45 incontrerà il gruppo parlamentare Liberi e Uguali della Camera dei Deputati. Mentre dopo tre quarti d'ora, alle 17 e 30, incontrerà i gruppi parlamentari di Italia Viva, PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei Deputati. Quindi dopo Liberi e Uguali è appunto il partito clou quello che ha fatto tutto questo, Italia Viva. Mentre alle 18 e 30, non è finita, sempre di giovedì 28 gennaio e nel pomeriggio, incontrerà il Partito Democratico, quindi gruppi parlamentari del Partito Democratico, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Mentre arriviamo alla mattina di venerdì 29 gennaio, che si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Le consultazioni seguiranno nel pomeriggio. Quindi arriviamo al pomeriggio del venerdì 29 gennaio. Alle ore 16 abbiamo gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, gruppi parlamentari di Forza Italia Berlusconi Presidente e Udc del Senato della Repubblica e Forza Italia Berlusconi Presidente della Camera dei Deputati, gruppi parlamentari. Poi ci sarà Lega Salvini Premier del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rappresentanti delle componenti Idea e Cambiamo, del gruppo misto del Senato della Repubblica e noi con l'Italia Usei e Cambiamo, del gruppo misto della Camera dei Deputati. Mentre alle ore 17 i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, lasciati in fondo quelli dei 5 Stelle. Chissà perché. Beh, qualcuno deve stare in fondo. Alla fine forse hanno fatto in ordine alfabetico. Però non ne risulta neanche perché la M di Movimento 5 Stelle non è. Vabbè, chissà. Intanto diciamo che dopo queste consultazioni dovrebbe andare, dovrebbe annunciare Mattarella, dovrebbe chiamare magari Conte, venga che parliamo, oppure chiamare un'altra persona, venga che parliamo. Si è parlato di Franceschini o Di Maio o addirittura Roberto Fico. Ma guardate, ma voi vi immaginate? Capo del governo Roberto Fico. Roberto Fico. Luigi Di Maio. Qui siamo a un livello, cari amici, cari amiche, se veramente a un certo punto abbiamo un capo del governo come Di Maio o Fico, il paese è ridotto veramente sull'astrico, sull'astrico, se questa è la mia opinione. Già il pressapochismo è arrivato fino ai ministeri. Abbiamo ministri per caso, politici per caso, che dicono corbellerie senza né capo né coda, persone passanti messi in politica. Disastro. Il Presidente del Consiglio, per quanto possa essere opinabile, possa essere reputato non in grado di fare il Presidente del Consiglio, però è una persona di cultura, di spessore morale, eccetera eccetera. Quindi possiamo criticare Conte per inadeguato a Presidente del Consiglio, ma è una persona di un certo livello. Metterci Di Maio o Fico realmente, non so, più in basso di così credo che non si possa poi andare realmente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete, dove trovate anche lì video di politica, mentre nella community di Tele Italia trovate sondaggi e altri video e altri articoli che potete commentare. Grazie nuovamente per avermi ascoltato e se volete tra circa 20-22 minuti trovate un altro video disponibile sempre su questo canale. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.